Radio.sud a Sanremo Lele ai microfoni di Radio.sud, benvenuto Grazie mille, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori Allora Lele, sicuramente sei stanchissimo, ma qualche domanda te la vogliamo strappare Allora, tu arrivi dai Talent, dai Talent e ti trovi subito catapultato sul palco dell'Ariston Qual è la differenza? Diciamo che io arrivo dal Talent dagli ultimi due anni In realtà io arrivo dallo studio della musica, io ho iniziato a tre anni e non mi sono mai fermato Sono 17 anni che studio Quindi arrivo qui con le mie canzoni, con un disco Fatto durante Amici con Elisa, che è stata fondamentale E arrivo con la tranquillità di chi è felice di quello che fa Poi ci sono le ansie e le emozioni del caso Perché Sanremo è la settimana più importante della musica italiana Ma con tranquillità e felicità, perché ho 20 anni e me la voglio godere È una settimana fantastica Sono momenti da viverli Momenti che capitano una volta, anzi noi ti auguriamo che te ne capitano sempre E ti auguriamo anche di arrivare nella finale Ti faremo per te Adesso però vogliamo conoscere il tuo singolo Oramai Oramai è una canzone che parla di consapevolezza A volte in una storia arriva il momento di stare in silenzio Dove non vale né la pena sentirsi dire delle cose né dirle E quindi racconta di quel momento lì In modo a volte rabbioso, a volte deluso A volte ancora innamorato È una canzone che mi rispecchia sotto tutti i punti di vista Sia dal punto di vista di suono che dal punto di vista testuale Quindi sono molto molto contento e orgoglioso di cantarla sul palco L'Ariston con l'orchestra Noi siamo onorati di comunque far ruotare il tuo pezzo Che già da un bel po' facciamo conoscere agli amici di Radio.sud Complimenti per la tua voce Per il testo Perché è un brano che comunque prende davvero tantissimo E ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutto Lo so che è una domanda troppo frettolosa questa Perché adesso tu sei impegnato in questa settimana Ma dopo il festival di Sanremo Cosa ti aspetta e cosa bolle in pentola? Ma bolle in pentola che il 10 febbraio ascia a costruire 2.0 Ci sarà un istortour in giro per l'Italia Adesso abbiamo pubblicato la prima ondata di store Ce ne sarà molto probabilmente un'altra Lo spero E spero tanti live Spero tanti live E noi ti aspettiamo in Puglia Assolutamente sì Grazie a me Un saluto agli amici di Radio.sud Un saluto a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori di Radio.sud Da Lene Grazie e buona serata In bocca al lupo E viva il lupo Grazie mille a voi Grazie a voi Grazie.